Musica Dal 25 maggio al 22 giugno all'Open Studio Italo Bolano in via Fra Bartolomea a Prato E' in corso la mostra Res Una, protagonista l'artista cortonese Roberto Ghezzi Presenta la mostra ai nostri telespedatori con l'invito ovviamente di venire a visitarla Alessandra Ribaldone che è la presidente della Fondazione Italo Bolano Questa è l'ultima mostra della stagione 2022-2023 Con questa mostra siamo arrivati alla quinta dall'apertura di questo spazio Ma i nostri telespedatori se ne sono informati perché tutte le cinque mostre le abbiamo seguite nel giorno del vernissaggio Come stiamo d'altronde facendo quest'oggi Passo subito a Alessandra il microfono per la genesi di questa mostra Per spiegarci come nasce e ovviamente per invitare i telespedatori a venire a visitarla Grazie Fabrizio, io sono particolarmente lieta di presentare questo evento che chiude come hai detto tu Un primo periodo di ospitalità a intercalarsi di mostre di artisti amici e di retrospettive di Italo Bolano Questa mostra conclude come dicevi un periodo iniziato due anni fa esattamente il 22 aprile del 21 Proprio di quest'epoca quindi abbiamo compiuto due anni In uno spazio che ha recuperato quello che era il vecchio studio dove Italo lavorava E dove anche per un certo periodo ha insegnato a giovani e meno giovani qui di Prato E restituendo quindi all'arte un luogo che aveva visto nascere gran parte della sua produzione di questi ultimi 15 anni La mostra di Roberto Ghezzi conclude un ciclo pensato dalla nostra direttrice artistica Erika Romano Dedicato alla natura delle cose Qui come vedremo e come vi spiegherà Erika andiamo addirittura oltre perché la natura diventa protagonista Poco fa tu mi chiedevi qual è il legame che unisce questi due artisti In realtà Roberto non ha mai conosciuto di persona Italo Però devo dire che se un legame si può trovare o si vuole trovare perché l'arte è una L'arte è arte e ogni artista la interpreta affidando dalla propria personalità il filtro di come vede le cose e come le trasforma E quindi se un legame possiamo trovare questo legame è il profondo senso di unione che entrambi hanno con la natura e con l'ambiente Tant'è vero che Italo all'isola d'Elba dove il suo Open Air Museum è aperto dal primo di maggio Quindi chi desidera venirci a trovare anche all'Elba ci può trovare tutta l'estate in una serie di eventi che saranno veramente molto belli e molto interessanti Magari ricordiamoci di comunicare la pagina Facebook dove il calendario dell'evento potrà essere consultato comodamente Certamente, quindi dicevo questo legame noi lo vediamo proprio con le opere che Italo ha voluto introdurre nella natura In modo che potessero essere immerse nella natura di una bellezza lussureggiante di un bosco che è stato ricostruito da un antico vigneto ormai abbandonato E per questo scoprì la ceramica che gli consentiva di poter lasciare la sua pittura all'aria, all'acqua e al sole E dopo quasi 50 anni di ceramica esposta alle intemperie, come appunto avevo modo di parlare ieri con l'artista La natura e i licheni hanno cominciato a colonizzare le ceramiche in una interferenza di colore che Italo aveva voluto, aveva cercato E a me diceva sempre, no non andare a toccarla, il lichene deve venire perché io voglio che la natura prenda possesso delle mie opere Quindi vedrete che questo sarà forse il fil rouge, se proprio lo vogliamo trovare, che può unire i sentimenti profondi di questi due artisti Ecco, chi vuole seguire i nostri eventi sia qui nello spazio di Prato Questa mostra sarà appunto in chiusura a giugno ma poi durante l'estate lo spazio sarà sempre comunque visitabile Su appuntamento al numero che... Ora manderemo in sovrimpressione Sì, vedrete in sovrimpressione E nella pagina Facebook sia dedicata al museo Open Air Museum sia dedicata all'Open Studio Italo Bolano Potete trovare tutto il calendario degli eventi Ora lascia la parola a Erika che vi racconterà la magia perché veramente è una magia profonda quella che ci sta circondando in questo studio La magia che questo artista Roberto Ghezzi è riuscito a trarre dalla natura e dall'ambiente e dalle sue opere E come ha detto poco fa Alessandra Ribaldone sarà Erika Romano a presentare ai nostri telesvedatori dal punto di vista critico la mostra Intanto partiamo dal titolo Res Una che credo tradotto in italiano voglia dire un tutt'uno Sì, una cosa, infatti esatto, una cosa perché ho associato il lavoro di Roberto Ghezzi al suo processo insieme Che labora insieme con la natura, lui è l'inventore della naturografia Quindi di un processo lavorativo e anche di opera finale insieme Quindi dove la natura non è uno sfondo come tradizionalmente troviamo Pienamente protagonista, pienamente protagonista con cui lui collabora come se fosse un architetto E quindi lui diventa una cosa sola con la natura e quindi ci è piaciuto interpretare il suo lavoro straordinario Che mette insieme anche scienza ed arte con questo titolo E con lui è figlio d'arte, ho visto il padre scultore, il nonno era scultore, è partito come pittore tradizionale E poi questo contatto, questa frequentazione continua con la natura, con i fiumi, con i boschi della sua terra Ricordiamo che è di Cortona e quindi un territorio della Toscana molto ricco ancora per fortuna di verde, di boschi e di montagne E poi è approdato a questo singolarissimo connubio fra la natura e l'arte Sì, viene tutto dall'osservazione, dalla frequentazione costante, continua con la natura E questo ha fatto sì che ci sia di fatto un innamoramento per cui l'uomo prova un sentimento sale Per cui quasi fa un passo indietro di fronte alla contemplazione di essa E permette questo, di far sì che la natura possa parlare, possa avere voce E questo è ciò che accade Ecco, è difficile in una mostra al chiuso di poter trasferire queste sensazioni e queste installazioni Per dargli un senso compiuto Però tu hai fatto una selezione insieme al maestro di alcune opere Ora le presenterai ai nostri telespettatori per farci capire appunto Quale legame hanno con l'installazione Molte delle quali i visitatori potranno trovare nei numerosi cataloghi in esposizione Oppure sui social dove il maestro ovviamente è molto presente Allora, per raccontare le sue opere non basterebbe in realtà una vita Bisogna fare uno sforzo di immaginazione e capire che questi lavori nascono nell'ambiente Ci sono naturografie di terra e naturografie di acque E insieme alla mostra abbiamo fatto una selezione di progetti che sono degli studi Con cui lui mostra quello che è il processo Noi abbiamo qui l'esito finale di questi studi Di questo lavoro costante che lui fa Ed è possibile visionare qui Come le hai selezionate queste opere? Alcune sono alle nostre spalle Altre le abbiamo utilizzate come sfondo per l'intervista a Alessandra Altre ve le sta proponendo, credo, nel corso del servizio il nostro regista Marco Frosi Beh, la selezione viene da un dialogo con l'artista Questo è imprescindibile E viene poi da uno studio dello spazio Quindi deve esserci una buona relazione tra lo spazio che le accoglie E quello che vogliamo trasmettere come messaggio del suo lavoro Perché sarebbe piaciuta questa mostra a Italo? Perché Italo era un innamorato della natura E cercava sempre in essa la massima ispirazione E dunque l'avrebbe amata senz'altro Anche se il modo di interpretare dei due artisti è diverso Entrambe hanno l'interesse e l'amore per la natura Ma sviluppato da Italo con una coloristica mediterranea, energetica Mentre il maestro cortonese privilegia, credo, i toni più crepuscolari Ma questi sono i toni della natura Lui non li seleziona Quindi questa è la natura nel suo aspetto autentico e veritiero Quindi Italo l'avrebbe amata perché cercava nella natura i suoi colori autentici E soprattutto sfido io ad avere un artista che si somiglia ad un altro Nella rappresentazione del reale Erika puoi invitare nuovamente, l'ho già fatta anche Alessandra E i nostri telesvedatori, a visitare questa mostra Che ricordiamo è l'ultima del ciclo espositivo 2022-2023 Ricordando giorni di apertura L'ingresso ovviamente libero all'Open Studio Italo Bolano Che vi ricordo si trova in via Fra Bartolomeo Quindi quasi nel centro storico di Prato E poi diamo anche altre informazioni sull'Open di Portoferrai Allora, la mostra qui è visitabile su appuntamento fino al 22 di giugno Mentre l'Open Air Museum Italo Bolano è aperto dal 1 di maggio fino a tutto il mese di settembre E durante la stagione estiva in particolare ci troverete molto attivi Ricordiamo ancora una volta la pagina Facebook Dove ovviamente uno può trovare aggiornate tutte le informazioni relative alle due mostre Fondazione Italo Bolano Così ci trovano sia su Facebook e su Instagram Così ci troviamo assicurante sia su QTSDA Grazie a tutti.